Per decenni, sebbene le affermazioni sugli UFO abbiano attirato i titoli dei giornali in tutto il mondo, raramente è sembrato che abbiano ottenuto un'attenzione di alto livello. Le autorità e le alte sfere in genere hanno smussato le storie sugli UFO, le hanno spiegate e talvolta le hanno anche derise apertamente, ma non è più così. E mentre ci muoviamo nel ventunesimo secolo, la questione degli UFO sta diventando un obiettivo sempre più importante nella fascia alta della ricerca spaziale americana. Bentornati su Infinito e oggi rispondiamo alla straordinaria domanda perché la NASA ha appena annunciato un'indagine ufficiale sugli UFO. Oggigiorno abbiamo visto tutti abbastanza film di fantascienza per conoscere molte delle caratteristiche più popolari degli UFO nel mainstream. Dischi volanti, raggi di luce, movimenti impossibili che sembrano sfidare la fisica e così via. Ma, oltre a tutto ciò, anche le clip UFO del mondo reale sono state impresse nella nostra coscienza collettiva? Infatti, c'è un elenco sempre più lungo di video ufficialmente declassificati e grazie al fatto che la maggior parte di tutti noi al giorno d'oggi portano telecamera in tasca, ci sono innumerevoli filmati di UFO amatoriali. Per così tanto tempo, il governo e le agenzie statunitensi ne erano rimasti ben lontani, o almeno questa era la posizione ufficiale. E forse, questa apparente dissociazione da parte delle autorità ha storicamente portato a una sensazione generale che non valesse la pena preoccuparsi degli UFO, che, per quanto non identificati potessero essere, c'era sempre una semplice spiegazione da trovare. Il cambiamento degli ultimi tempi, quindi, è chiaramente significativo. Ci sono state una serie di pietre miliari, ma alcune più grandi di altre. In primo luogo, i dettagli del programma chiamato AATIP sono trapelati nel 2017, rivelando un'indagine governativa precedentemente segreta sugli UFO tra il 2007 e il 2012. In secondo luogo, il famoso rapporto WAP di valutazione preliminare è stato pubblicato nel giugno 2021, delineando più di 100 casi inspiegabili di UFO tra il 2004 e il 2012. Nel caso siete interessati di più a questo rapporto WAP, abbiamo un video che lo copre nella scheda in alto a destra. Ed ora, terzo, anche la NASA è entrata nella mischia. La notizia è arrivata il 9 giugno 2022 con la NASA che rilascia una dichiarazione per delineare le sue ultime intenzioni. L'agenzia istituirà uno studio indipendente sui fenomeni aerei non identificati, o WAP, il termine preferito dai funzionari contemporanei per gli UFO. Sebbene gli obiettivi esatti dello studio siano ancora sconosciuti, è ampiamente presentato come uno sforzo dedicato per riunire tutti i dati UFO esistenti e identificare il modo migliore per raccogliere dati futuri. È importante sottolineare tuttavia che questa non sarà solo un'altra analisi di clip adeguatamente declassificate. Tutti gli avvistamenti UFO potrebbero essere inclusi. Ovviamente la notizia è stata variamente accolta, con sorpresa da alcuni, scetticismo da altri, ma anche euforia in alcuni casi. Fino ad ora, e nonostante sia la principale agenzia spaziale mondiale continuamente impegnata tra le altre cose nella ricerca di vita aliena, la NASA si è mantenuta abbastanza lontana dei discorsi sugli UFO. È probabilmente uno dei motivi principali per cui molte affermazioni sugli UFO hanno lottato per guadagnare credibilità in passato. Ma a partire dal 9 giugno, sembra che la NASA stia ufficialmente riconoscendo ciò che in passato apparentemente ignorava. E quindi, forse un giorno, questo potrebbe essere ricordato come un momento chiave di svolta per la ricerca sugli UFO. L'agenzia rimane anche fermamente convinta sul fatto che ci sia un merito scientifico nel suo nuovo approccio, definendo il campo come povero di dati come una delle maggiori sfide relative all'argomento. La missione della NASA quindi, in questo caso, è trasformare i dati poveri in dati ricchi e quindi trasformare il modo in cui vediamo, classifichiamo ed elaboriamo le affermazioni sugli UFO. In questo momento, tuttavia, sembra che questo sarà più un progetto collaterale piuttosto che una priorità a lungo termine. Il budget riportato per lo studio è di circa 95.000 euro e il completamento dovrebbe richiedere solo 9 mesi. Tuttavia, alla fine di questi 9 mesi, tutto ciò che è stato realizzato e scoperto sarà aperto e disponibile per la visione del pubblico, quindi in linea con i principi fondamentali della NASA verso la trasparenza. Mentre la declassificazione delle clip UFO in passato potrebbe essere stata ammonita da una sensazione di cosa non ci stanno dicendo, non dovrebbe essere quello che accadrà qui. Per quanto riguarda previsioni più ampie su come il coinvolgimento della NASA potrebbe alterare il paesaggio, è difficile dirlo, ma potrebbero esserci implicazioni per seti, cioè la ricerca di intelligenza extraterrestre. Solo nel secondo paragrafo della dichiarazione di apertura per annunciare questo studio, la NASA afferma che non ci sono prove che gli UAP siano di origine extraterrestre, quindi non sembra che vogliano provare, oltre ogni dubbio, quel particolare aspetto della storia degli UFO. E in effetti c'è una menzione più semplice di garantire la sicurezza degli aerei per i lettori che cercano una vera ragione per cui la NASA ha deciso di partecipare alla festa. Eppure l'agenzia conclude la sua dichiarazione con riferimento alla ricerca di vita aliena negli ultimi due paragrafi, sebbene non correlato a questo nuovo studio, afferma la NASA ha un programma di astrobiologia attivo che si concentra sulle origini, l'evoluzione e la distribuzione della vita oltre la Terra. Forse non è irragionevole suggerire quindi che quest'ultima avventura nello studio degli UFO sia fatta pensando almeno in parte alla vita aliena. La stessa NASA sembra collegare i due insieme fin dall'inizio, ma qual è il tuo giudizio su quest'ultimo sviluppo? Uno studio della NASA è una buona notizia per la ricerca sugli UFO? Pensi che avrà un impatto positivo o negativo? E in definitiva, cosa ti aspetti che la NASA scopra con le sue indagini? Il dibattito sulla vita aliena non è certamente nuovo, ma la sua direzione è cambiata e accelerata negli ultimi decenni. Oggi, molti scienziati, astronomi e cosmologi credono che la vitalina debba essere là fuori e che le possibilità che la Terra sia l'unico pianeta ad ospitare esseri viventi nell'intero universo siano inimmaginabilmente ridotte. Tuttavia, l'opinione sugli UFO è ancora generalmente molto divisa. Infatti, si dice che ci siano alieni sulla Terra, o che ci sono sempre stati alieni sulla Terra, o ancora che ci sono forze invisibili che ci osservano da lontano. Eppure, finora nulla è stato ufficialmente confermato, e nessun singolo oggetto è mai stato verificato completamente come di fabbricazione aliena. Dopo il rilascio del tanto atteso rapporto UAP da parte degli Stati Uniti nel giugno 2021, quasi un anno prima che la NASA rivelasse questi piani per il proprio studio sugli UFO, c'era stata una specie di reazione smorzata, con il rapporto che non ha fornito una spiegazione per qualsiasi caso coperto, ma si è anche astenuto dal collegare qualsiasi caso all'attività aliena. Quindi, non è stato così drammatico come alcuni si aspettavano. Ora, sebbene in una certa misura illuminante, molti hanno ritenuto che fossero necessarie più informazioni, e la richiesta di uno studio indipendente è stata ampiamente avanzata. Forse col tempo, questa iniziativa della NASA servirà a fornire maggiori informazioni. L'inizio è previsto tra metà e la fine del 2022, quindi se la durata di nove mesi viene mantenuta, dovremmo vedere i primi risultati verso la metà del 2023. Il moderno fenomeno UFO ha tirato l'attenzione del mondo per quasi un secolo. Ci sono stati infiniti esempi di strani oggetti visti nel cielo, e varie conclusioni hanno fatto pensare che potrebbero non essere di questo mondo. Tuttavia, il senso prevalente di mistero senza risposta ha quasi sempre vinto. Inoltre, c'è così spesso la sensazione che, anche se vuoi credere, potresti non saperlo mai con certezza. Ora, resta da vedere se sarà ancora così. Una volta che l'agenzia spaziale leader mondiale avrà uno sguardo più da vicino di quanto non abbia mai fatto prima. Ciò che è diventato sempre più chiaro negli ultimi tempi è che c'è una sorta di cambiamento epocale in atto tra i gruppi di autorità negli Stati Uniti. Ciò che una volta veniva screditato o deriso è ora diventato un vero punto di interesse, richiedendo sempre più tempo, energia, intelligenza e concentrazione. Ed è per questo che la NASA ha appena annunciato un'indagine ufficiale sugli UFO. Ma facci sapere nei commenti cosa ne pensi tu. Ed infine, se il video ti è piaciuto metti mi piace e non dimenticarti di iscriverti al canale, oltre anche ad attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornato quando pubblicheremo un nuovo video.